Non sarà un'assemblea di routine quella in programma domani sera all'arbitro club per Orgoglio Maranto. Già in passato ci sono stati momenti di grande interesse e la risposta della cosiddetta battaglia totale di quattro anni fa è un esempio ancora fresco per la storia di questa associazione che punta su un calcio sostenibile attraverso l'impegno diretto dei tifosi. Non sarà certo un percorso facile. Orgoglio Maranto, socio di minoranza della società sportiva Rezzo, infatti si è astenuta in occasione dell'assemblea che ha deciso la ricapitalizzazione per un valore pari a 3 milioni di euro. Se ci sarà l'adesione Orgoglio Maranto dovrà reperire poco più di 30 mila euro per quell'1% che vale più del suo effettivo valore. A questo punto è giusto chiedersi come possono incidere i tifosi e soprattutto qual è il rapporto con il partner di maggioranza che tra l'altro ha fatto marcia indietro dopo i propositi di abbandono manifestati all'indomani della stessa assemblea. Da Roma sono partiti negli ultimi giorni segnali distensivi. Potrà essere sufficiente tutto questo per ricuciare un rapporto? E questo è il grande interrogativo dell'assemblea di domani sera. Fuori la curva si è già espressa. Orgoglio Maranto sposerà questa tesi o farà da mediatore almeno per chiudere la stagione e permettere alla squadra di affrontare le partite che restano in un clima più sereno.